Ma iniziamo col vice premier Matteo Salvini, benvenuto. Vedo che passano i mesi, però gli applausi continuano a esserci, voglio dire che solitamente dopo un po' chi sta al governo mi perde. Non erano per Vasco, non erano per me, perché è un pezzo stupendo. Sì, posso dirti che dopo sei mesi, per me è ancora un'emozione essere andato ieri a fare la spesa a Milano e essere fermato al super da una signora che dice posso fare una foto, grazie, mi raccomando. E al di là dei sondaggi è la cosa più bella, poter passeggiare come una persona normale per Roma o per Milano e avere qualcuno che dice dai Emma a te, non mollare. E io non mollo, e questo è quello che mi dà la forza per non mollare mai. Ecco, ma questa forza della gente, anche nei sondaggi che la vedono ai vertici delle preferenze degli italiani, si scontra poi con delle altre cose che si leggono sui giornali, le grandi tensioni. Sono due mondi spaccati oppure qualcosa c'è? Perché intanto vorrei far vedere questa fotografia, vai. È una fotografia che è stata, credo, rubacchiata con un telefonino, un po' sgranata. Però c'è Juncker che si abbraccia col premio italiano Conte e pochi minuti fa leggo quest'ansa dove dice nel governo, poi per carità è un'ansa, però solitamente hanno grandi informazioni, nel governo si tratta su deficit al 2%, possibile un nuovo vertice. Allora, i decimali si è detto poco. È l'esima bufala, stiamo leggendo i numeri dell'otto in queste settimane. Molto semplicemente io voglio cominciare a mantenere gli impegni presi con gli italiani anche sulle tasse e sull'economia, come in questi sei mesi io penso di aver dimostrato sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla lotta alla mafia. Quindi è chiaro che non si può fare tutto e subito. Chi mi ferma a Roma e a Milano non mi dice, mi raccomando Salvini, 2,4 di deficit. Dice, mi raccomando Salvini, mio figlio non lavora da tre anni, fate in modo che possa provare a trovare un lavoro. Quindi iniziamo a smontare la legge Fornero che ormai è una mia ragione di vita, non so quante volte sono venuto in questo studio dicendo che è la legge più sbagliata approvata dal Parlamento italiano dal dopoguerra oggi e in questa manovra economica c'è un bel gruzzolo di miliardi per riconquistare la libertà, il diritto alla pensione per 500.000 italiani. Chiaro che se tu mandi in pensione 500.000 italiani prima rispetto al previsto si aprono 500.000 posti di lavoro per i giovani. E su questo posso dire che l'Europa può dire quello che vuole, può mandare anche Padre Pio, ma io la legge Fornero la smonto pezzo per pezzo perché è una legge sbagliata. Poi Conte ha rapporti privilegiati con Padre Pio, quindi possiamo operare nei miracoli di Padre Pio che ha un rapporto con Conte. Poi un altro paio di maniche, noi per il reddito al lavoro e la legge Fornero abbiamo messo un pacchetto di miliardi, 16 miliardi, sei tecnici che stanno lavorando. Lei ha detto che si può forse risparmiare qualche cifra, un miliardo diciamo. Mi dicono, Matteo tu riesci a mantenere questo primo impegno, perché lo dico a chi è a casa, mi ricordo bene tutti gli impegni presi, siamo qua da 5 mesi, voglio stare qua 5 anni, quindi è un inizio di percorso. Però se mi dicono che per mantenere questo primo impegno è restituire la vita, la libertà, la dignità a mezzo milione di italiani, invece dei 6 miliardi e mezzo previsti potranno servirne di meno, è chiaro che io quei soldi non li lascio nel cassetto, li uso per fare qualcos'altro. Quindi quando il Presidente di Confindustria Boccia dice bisogna dire a Salvini, a Di Maio di cambiare la manovra, di investire di più, domani credo a Torino ci sarà proprio un'ulteriore presenza massiccia di imprenditori, gente che scende in piazza per le opere pubbliche, costruire, quello mi dicono. Ma c'è un piano di investimenti che non c'è mai stato in precedenza, però noi abbiamo dato attenzione ai dimenticati degli ultimi anni, ai dimenticati di Monti, di Renzi, penso al popolo delle partite IVA, all'esercito degli autonomi, dei liberi professionisti, degli artigiani, dei piccoli commercianti che dall'anno prossimo, non fra sei anni, dall'anno prossimo se fatturano fino a 65 mila euro pagheranno il 15%, non una lira di più, senza compilare 18 moduli. L'obiettivo è arrivare a questa semplificazione e detassazione per le famiglie, per le imprese, però almeno un milione e mezzo di piccolini che stavano con la palta fino a qua risparmieranno fino a 10 mila euro all'anno. Però scusi, quindi questa ansa che dice si tratta sul 2%? Ma guardi, io leggo la mattina a volte sui giornali che ho cenato con gente che non conosco, che ho detto cose che non ho mai dichiarato, stasera sono da lei, ma sicuramente sui giornali da domani c'è che io ero da qualche altra parte. Ecco, ma a proposito di questo, non ha paura, lei ha difeso molto Di Maio, in un momento difficile, nell'attacco al padre di Di Maio, eccetera. Suo padre e sua madre, cioè non le viene l'ansia ogni tanto di pensare che uno vada a cercare di tutto? Mio padre e mia madre sono tranquillamente pensionati, mia sorella è una precaria, adesso è a casa perché ha avuto il primo bimbo da due mesi e quindi è la classica farmiglia normale italiana. Quello che mi dà fastidio è che quando non possono attaccare direttamente una persona, Di Maio o Salvini, si attaccano agli amici, ai parenti, ai cugini, alle fidanzate, lasciate perdere, giudicate Matteo Salvini da ministro dell'interno, non da altri fatti, perché quando quelli che sbirciano dal buco della seratura secondo me sono dei poveretti e quindi gli italiani giudicano sulle cose vere, non su altre. Senta, è stata una settimana importante perché il decreto sicurezza è passato, no? Quindi per lei era conferma che quello che aveva promesso si viene mantenuto, però ci sono state molte polemiche, Fico non si è presentato, il Presidente della Camera ha detto che sono Gino Strada, dice che siamo fascismo, razzismo. Se leggessi il giornale o guardassi la televisione avrei una pessima opinione di me. Razzista, fascista, nazista, xenofobo, populista, egoista, assassino, delinquente. Io semplicemente ho fatto quello che molti italiani mi chiedevano, gli sbarchi da 120.000 si sono ridotti a 20.000, perché in Italia ce ne sono già troppi di delinquenti senza farli arrivare dall'altra parte del mondo. E quindi gli immigrati per bene sono i benvenuti, ma gli altri basta. Secondo lei Minniti che aveva intrapreso questa strategia è stato messo a po' ai margini del PD proprio perché non appartiene alla cultura del PD quello? Ma dare diritti agli immigrati regolari è un mio vanto, perché con questo decreto i rifugiati politici veri finalmente avranno totale assistenza. Però quello che non mi piaceva era pagare 35 euro al giorno, qualcuno che diceva scappo dalla guerra, scappo dalla guerra e poi andava a spacciare droga a San Lorenzo a Roma. Ecco io questo non lo voglio in Italia. Quindi per dire l'attacco che oggi fa l'avvenire col direttore Tarquinio in prima pagina dicendo che non parlate più di Natale, di sentimenti cristiani, perché lasciate la gente in giro, cosa risponde? Che è disinformato e non so quanto rappresenti il vero sentimento cattolico in Italia perché io ho la gioia di essere fermato, contattato via sms, via mail, via whatsapp quotidianamente da parroci, da frati, da suore, da missionari in Africa, da vescovi, da cardinali che mi dicono Matteo vai avanti. Matteo vai avanti perché anche il Vangelo, anche il Catechismo dice accogliere un dovere nei limiti del possibile e siccome lo stipendio me lo pagano gli italiani, finché io ho 5 milioni di italiani poveri, prima penso a questi italiani e poi penso al resto del mondo. Penso che sia una roba normale. Un poche settimane fa c'era Giovanni Minoli che ha detto però una cosa che si lega un po' alla domanda di partenza. Alla fine vedrai, disse, che cederanno con fermezza. Lei mi ha detto però noi quel due, non una notizia non corretta, però avevate detto, nel vostro linguaggio vostro è cambiato. Cioè l'abbraccio tra Juncker non è un abbraccio normale, vuol dire che forse qualcosa ha cambiato, sta cambiando, rispettano forse quello che volete voi. Che ne dicano? Noi non vogliamo litigare nessuno, chiediamo semplicemente rispetto all'Europa, un'Europa che negli anni passati ha dimostrato di prendere a bastonate gli italiani, gli agricoltori, i pescatori, i camionisti. Ecco ma scusi, ma quello che sta succedendo in Francia, lei che me lo valuta, cioè è un rischio che possiamo correre o che l'Europa che non capisce certi meccanismi e si parla solo sulla matematica poi rischia questo? L'Europa si è occupato tanto di finanza, di multinazionali, di economia virtuale, ma quando l'Europa difende una legge che manda una donna in pensione a 66 anni con la schiena spezzata perché lavora in una casa di riposo da 40 anni sollevando anziani e disabili, non è la mia Europa. Io voglio un'Europa dove il diritto al lavoro, il diritto alla salute, non ci sia il filo spinato. Io non voglio i muri, i ponti, voglio semplicemente che in Italia arrivino in aereo e non in barcone i bimbi che scappano dalla guerra, ma non i 25 anni robusti con il cappellino, il telefonino che scappano da tennis che spacciano droga. Quindi io voglio andare in Europa, chiedo agli italiani di darci forza e di sostenerci come stanno facendo, ringrazio di vero cuore, per cambiarla questa Europa. Io non voglio sfasciare, disfare, anzi qualcuno a Bruxelles, probabilmente guardate cosa hanno fatto in Grecia, guardate cosa hanno fatto in Spagna, come possono pensare di mandare degli ispettori in Italia per verificare se siano razzisti o di mandare dei commissari in Italia per dire dovete tagliare sulla sanità. Io non voglio tagliare sulla sanità, il diritto alla salute è fondamentale per 60 milioni di italiani e quindi voglio che in Europa se ne rendano conto. Ecco però poi i soldi bisogna trovarli, no? Perché poi nasce il problema, la coperta è troppo corta, la tiri da una parte, la tiri dall'altra, i soldi vanno trovati. I soldi si trovano se la gente lavora, se la gente lavora la gente prende lo stipendio, consuma, cambia casa, cambia macchina, magari pensa di mettere al mondo un figlio, perché non so se li avete visti, la demografia è bestiale, sono nati l'anno scorso meno bambini che durante la prima guerra mondiale, ma perché ormai se un ragazzo e una ragazza di 30 anni stanno ancora col papà perché hanno un lavoro precario e nessuna banca gli dà il mutuo, quant'è che cominciano a fare figli? A 40 anni. Quindi la nostra convinzione è che se tanti italiani tornano a lavorare, tornano a pagare le tasse, l'economia sale e il debito scende. Quindi il Presidente di Confindustria lei dice di aver fiducia, non hanno detto una parola. Perché loro dicono sulle opere, le grandi opere a Di Maio, quando si era seduto qui ha detto l'idea che il Movimento 5 Stelle fa passare e che sia sempre un no. No, questo è il governo di sì, la TAP in Puglia che serve per portare gas in Italia per far pagare meno la luce e la bolletta elettrica a famiglie e imprese, si fa. La Pedemontana in Veneta inaugura il suo primo casello, però a me interessano i risultati, io non vado alla forma, vado alla sostanza. Se arriva il gas, se si fa la Pedemontana, se si fa il terzo valico, abbiamo votato settimana scorsa 4 miliardi di euro per la terza corsia dell'A22 del Brennero. L'Italia ha bisogno di sì, ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di ferrovie, in Sicilia hanno il binario unico, in Sardegna non c'è il metano, non è possibile pensare che la Calabria è abbandonata da secoli. Per fare questo devo spendere dei soldi, quindi io chiedo cortesemente ai signori di Bruxelles di aiutarci ad aiutare gli italiani e poi fra un anno ci giudicheranno, non prima. Non voglio essere bocciato prima di aver fatto il compito in pass. Però le chiedo una cosa, come mai lei è andato a porta a porta difeso in modo molto forte Di Maio? Certo. C'è questa immagine invece rappresentata da quel grande artista, secondo me che si chiama TV Boy, che gli mette di schiena. Ecco perché nell'immaginario ormai c'è questa spaccatura... Ma non è che se uno va a mettere sul muro che io e Di Maio siamo di schiena e io e Di Maio ci stiamo antipatici. Così come quando ci avevano rappresentati che ci baciavamo, io non ho mai baciato con tutto l'affetto Luigi Di Maio perché ho altre preferenze. però riconosco che se tanti mi dicono, bravo Salvini, hai fatto tante cose in questi sei mesi, non le ho fatte da solo. Se non ci fosse una squadra, se non ci fosse coerenza, se non ci fosse un contratto, se non ci fossero due persone serie, come Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, io da solo non avrei combinato niente. Senta, l'altra settimana Virginia Raggi, sindaco di Roma, è venuta qui in trasmissione e ovviamente abbiamo parlato un po' di lei e le ha mandato questo messaggio. Vediamo il messaggio della sindaca di Roma. Comunque tu sia, Matteo, noi siamo ancora in attesa dei 254 poliziotti, uomini e donne delle forze dell'ordine che hai promesso a Roma. D'acceli, quegli uomini, che sono pochi ma sono già un primo passo, servono, perché l'ordine pubblico a Roma è una responsabilità del Viminale, quindi noi li attendiamo. Arrivano a inizio anno, per i miracoli non sono ancora attrezzato, però permettimi di dire che... Hai nominato Padre Pio prima, prima c'è Padre Pio, Conte è un canale preferenziale. Che l'aria, e lo dico ai romani qua, sia un po' cambiata, posso dire che per me è stato un orgoglio in una settimana aver raso al suolo dieci billette dei Casa Monica che stavano lì da una vita e quindi... Poi arrivano non solo a Roma, perché nella manovra economica c'è un piano straordinario di assunzioni di 8 mila donne e uomini nelle forze dell'ordine, non solo poliziotti, vigili del fuoco, carabinieri, polizia penitenziare, guardie di finanza, quindi è uno sforzo economico che non abbiamo mai fatto, ma sai quei soldi dove li abbiamo trovati? Avendo risparmiato un miliardo di euro grazie ai minori sbarchi e ai costi che abbiamo tagliato, una parte di questo miliardo di euro si trasforma in sicurezza, in donne e uomini con la divisa che vanno nelle città di tutta Italia, perché nessuna, e portami qua e mi frusti se non sarà l'impegno preso, nessuna questura italiana avrà il taglio di un solo poliziotto, anzi tutte le questure italiane dall'anno prossimo avranno almeno un uomo delle forze dell'ordine in più. Prendiamo atto di questa promessa e speriamo che poi fondamentare il controllo del territorio poi il mio sogno è la certezza della pena, che è un mio sogno molto alto. Questa è l'altra faccia della medaglia, perché io non posso mettere un poliziotto fuori da ogni scuola, in ogni giardinetto, fuori da ogni supermercato, infatti l'altra faccia della medaglia è una riforma della giustizia che ci siamo impegnati a ultimare entro il 2019, perché se io ti becco che spacci e poi ti ribecco nello stesso giardinetto il giorno dopo, evidentemente non funziona, ho presentato io come sonatore, non come ministro, un disegno di legge riguardo alla droga che aumenta le pene, perché questi che vanno a spacciare i ragazzi di 13 anni, secondo me sono la stregua degli assassini, e quindi devono finire in galera, non devono uscire il giorno dopo. Vediamo poi di fare delle carcere, perché l'altro dramma è che le carcere non ci sono. Però capisco che uno arriva a cinque mesi e ci sono mille casotti. Però fammi dire che anche la violenza contro... Va tutto insieme, no? Perché se tu li prendi, li metti, poi non sai dove metterli. Però per quante trasmissioni hai fatto sulla violenza contro le donne? E bla, e bla, e bla... Nel decreto sicurezza c'è il braccialetto elettronico, perché dei delinquenti che minacciano e picchiano non devono avvicinarsi a una casa. E settimana scorsa abbiamo approvato il cosiddetto codice rosso, come al pronto soccorso, le denunce di molestie, stupro, maltrattamento di una donna che venivano esaminate dopo mesi, dopo anni, entro tre giorni devono essere esaminate dal magistrato. E se io salvo solo la vita di una donna, ho fatto il mio dovere e sono contento. E l'abbiamo fatto, non ne abbiamo parlato, l'abbiamo fatto. Prima di lasciarla volevo chiedere due cose, però ci sono state molte polemiche sul fatto che lei abbia telefonato a Freddy Pacini, questo gommista, questo imprenditore, ricordiamo, da quattro anni viveva dentro, praticamente giorno e notte, in questo suo magazzino per difendersi dagli attacchi, dai furti che aveva subito. Sembra il minimo. La sua telefonata, com'è stata? Innanzitutto se ci guarda gli mando un abbraccio, non per dirgli grazie per quello che ha fatto, ma perché evidentemente sta passando giorni di sofferenza con la sua famiglia. Mettitene nella testa di qualcuno che lavora a 12 ore al giorno nel suo capannone e poi ci dorme perché aveva subito 30 fra furti e rapine. E se al 39esimo furto si alza di notte alle 4 della mattina, vede due col passamontagna e col piccone e spara alle gambe e malauguratamente uccide un rapinatore, ha tutta la mia vicinanza. Da uomo prima che da ministro. Ecco, ma allora perché secondo lei ci sono queste polemiche sul fatto che un ministro chiami una persona che ha subito quello che ha subito, pura se ha ucciso poi il ladro? Prima che un ministro sono un uomo, sono un padre di famiglia, se qualcuno entra in casa mia col passamontagna e il piccone e ci sono i miei figli che dormono vicino a me, deve essere lui ad aver paura perché se ci sono i miei figli di mezzo non guardo in faccia nessuno. Il mio obiettivo poi è risolvere i problemi. Ecco perché scusi, una legge sulla legittima difesa che garantisca che a casa degli italiani ogni italiano se si sente in pericolo di vita è legittimato a difendersi senza andare sotto processo perché è il rapinatore che è venuto in casa mia, non so mica io che sono andato a casa del rapinatore a rompe le scatole. All'inizio dell'anno. Attenzione però fammi dire, questo non vuol dire che io aspico che tutti si armino, no? Per carità di Dio, questo è il dovere delle forze dell'ordine. Io potrei avere da ministro sotto minaccia il porto d'armi, non ce l'ho, non lo voglio avere, non saprei neanche da che parte prendono la pistola. Il mio dovere è garantire ancora più sicurezza, garantire il calo di reati che ci sono e garantire la certezza della pena, però se uno viene aggredito potrò almeno telefonargli o devo telefonare i parenti del povero rapinatore per capire perché aveva fatto il rapinatore nella vita. No, però le chiedo se la sua idea di che non ci sia processo sarà una idea, cioè nel momento in cui c'è un omicidio comunque... Un accertamento rapido, è chiaro che questo non vuol dire che se uno ti frega la bicicletta a 50 metri di distanza tu prendi il calasco per fare la bicicletta, però la casa deve tornare a essere una realtà inviolabile, questo vale anche per rapine, la camera da letto, ma questo vale per il capannone, per l'azienda, per la cantina, i rapinatori devono capire che rischiano qualcosa in più, detto questo le forze dell'ordine saranno di più, saranno meglio equipaggiate e meno armi ci sono in giro meglio è, ma tu sai che il paese più armato d'Europa è la Svizzera, perché in Svizzera un cittadino su due ha l'arma a casa perché sono in servizio militare fino a 60 anni, e in Svizzera ci sono stragi? No, in Svizzera ci sono molti meno reati perché i delinquenti sanno che gli può andar male, ecco, il mio modello è un paese dove i delinquenti abbiano paura a fare i delinquenti, questo non penso di chiedere... No, 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 io sono sulla linea, però credo anche che uno Stato che lascia un uomo per quattro anni dormire dentro il proprio magazzino sia una sconfitta dello Stato, cioè alla fine tu sei costretto a rispondere sparando perché da una parte lo Stato non ti tutela, quindi questo è il vero problema. Io ho chiamato lui, ho chiamato la moglie, ho chiamato l'avvocato, ho deciso di non andare in quel paese in provincia di Arezzo in questi giorni perché se no figurati Salvini, Sciacallo, Valì, no, lascio passare un po' di tempo, do la mia vicinanza a questa famiglia che sta soffrendo perché in ogni caso gli è cambiata la vita, poi ci andrò e chiedo al sindaco cosa vi serve, in questo decreto sicurezza ci sono soldi per le videocamere, c'è la pistola elettrica per i vigili urbani, ci sono poteri di ordinanza ai sindaci, ci sono interventi contro i parcheggiatori abusivi, contro gli occupanti abusivi di case popolari e nonostante questo sui giornali è il decreto del razzismo, del fascismo, del nazismo, questa è gente ignorante che il decreto manco l'ha letto, io sono orgoglioso di questo decreto. Tra pochi minuti noi ci coniugheremo con Mario Cattaneo che è un ristoratore, 79 anni, di Lodi, so che vi siete sentiti anche con lui, lui però vive una situazione psicologica drammatica, perché un anno e mezzo, ricordiamo, tra poco lo incontreremo, quindi ricordo la storia, era notte quando entrano dei rapinatori nel suo locale, lui aveva anche una tabaccheria, scende le scale, con lutazione, c'era anche il figlio, parte un colpo dal fucile e uno di questi rapinatori muore, però è un anno e mezzo che lui vive nell'ansia, spese legali anche forti da quanto so, per resistere in processo, ecco, siete sentiti con lui anche? Ma io ce l'ho anche andato a mangiare e si mangia un risotto incredibile vicino a Lodi, quindi è sotto Natale, invito tutti i lodigiani, non solo gli lodigiani, andare a trovare Mario perché è veramente un cuoco di vino, ecco, l'accertamento della verità nell'Italia che ho in testa io e dopo la legge sulla legittima difesa può durare un mese e dopo un mese rendi giustizia a Mario, a Fredi e ai tanti che si sono trovati in questa situazione, non è possibile tenere in ostaggio per un anno e mezzo un settantenne che ha difeso se stesso e la sua famiglia e ripeto, chi sceglie di fare il mestiere del rapinatore sa che fa un mestiere rischioso e se corre qualche rischio è un problema suo e io non voglio che ci sia neanche il risarcimento per i parenti dei rapinatori. Adesso la lascio andare, in questi mesi, qua è la cosa che l'ha amareggiata di più, la cosa che in realtà l'ha più sorpresa, anche forse questo rapporto con Di Maio, forse non credo che se lo aspettasse così. No, non lo conoscevo. Cioè avete discusso mille volte, vi siete detti di tutto, no? Non lo conoscevo, ma ho trovato una persona onesta, coerente, leale, pulita. Ogni tanto abbiamo visioni diverse su come utilizzare i rifiuti, sulla TAV, però discutiamo sui progetti, sul futuro dell'Italia, non litighiamo sulle poltrone o sui ministeri come faceva qualcuno prima di noi. Quindi sono contento di aver cominciato questo percorso. Cose che mi amareggiano no, perché ogni giorno mi arrivano lettere di minaccia, leggere i giornali sono la persona peggiore al mondo, poi però quando esco da questo schermo e torno a casa e domani mattina giro per Roma, a me interessa la gente vera. Finché la gente vera mi dice non mollare, io non mollo. Anzi, sabato prossimo per l'Immacolata, abbiamo scelto invece di stare con i miei figli, ho invitato tutti gli italiani in Piazza del Popolo a Roma, sabato prossimo alle ore 11, per una manifestazione non contro, però io voglio fare qualcosa che di solito i politici non fanno, dire grazie. Perché questi sei mesi sono stati per me un'avventura straordinaria e spero di farlo ancora per tanto tempo. Sbaglio o per la prima volta su un manifesto che ho visto c'è un tricolore e non c'è il verde lega? Se Italia rialza la testa, perché la cosa che più mi ha dato forza in questi mesi, al di là dei risultati economici, degli sbarchi, dell'antimafia, dei Casa Monica, della riforma della scuola che stiamo preparando, è che molti mi dicono ho ritrovato l'orgoglio di essere italiano. Quando vado all'estero vado italiano a testa alta perché non c'è un governo che va in giro col cappello in mano. E quindi sì, ci sarà Italia rialza la testa perché secondo me non abbiamo niente da invidiare ai francesi, ai tedeschi, agli spagnoli, agli sumberuguesi. Siamo il paese più bello del mondo. Con un po' di lavoro in più e un po' di tasse in meno siamo il paese più bello del mondo. La Raggi non è che deve temere un avvicinamento al Campidoglio? Perché insomma questa manifestazione... No, vabbè, piazza del popolo. Cosa c'è di più bello? Quando mi accusano e pensano di insultarmi dicendo populista perché vai nelle piazze in mezzo agli italiani? Sì, sono populista e sono orgoglioso di essere populista. E sono orgoglioso di non essere cambiato. Grazie Matteo Salvini per essere stato qui con noi. Grazie, grazie. Matteo Salvini e noi facciamo un cambio in diretta. Grazie.